Vorrei chiamare all'interno della mia relazione un amico che rappresenta, guardate un po', io che ho sempre combattuto le banche, è una banca che nei momenti difficili, quando avevo i 7 milioni, 4 milioni, vi ricordate, della federazione, qualche quante notte non abbiamo dormito in qualcuno di noi, ci è sempre stato vicino, questo amico al di fuori della sua aurea istituzionale insieme ad altri che lavorano con lui è Marco Taranto, la vice direttore generale di BNL, quindi Marco fuori dal contesto mi sento, grazie, dici una cosa, bevo un goccio d'acqua, grazie. Mi metti davvero in imbarazzo e quindi adesso prenderò qualche secondo per ricompormi. Utilizzi i numeri che aiutano sempre quando uno deve trovare un po' il modo per togliersi da un momento di, mi è toccato, quindi diciamo, e quindi cercherò di rispondere con la stessa parte con cui vorrei chiudere fra un po', anche con la parte più appassionata e con la parte un po' più di cuore. Io ero presente quando tu otto anni fa sei stato letto ed era la mia prima volta che, diciamo, professionalmente mi avvicinavo al mondo della federazione italiana degli agenti professionali. Non credo di aver mancato un appuntamento in questi ultimi anni, quindi tutte le assemblee, tutti i congressi ci sono sempre stato e ti ringrazio per gli inviti. Prima di arrivare un po' alla parte, diciamo, vi provo a raccontare una storia, durerà pochi minuti. Sono numeri. Voi esistete da più di 40 anni? Siete oggettivamente forse la più grande associazione europea o tra le più grandi associazioni europee di categoria? E questa è già una cosa particolare perché l'Italia e l'associazionismo italiano alla fine ha un peso europeo molto più forte di quanto lo facciamo pesare all'interno dei singoli paesi. Perché comunque mettere insieme delle componenti che possono raccontare come vanno i mercati con professionalità e con tecnicalità non è una cosa per nulla ovvio. Voi lo fate, lo fate come attori protagonisti a livello europeo, non solo italiano. Ho preso una ricerca dell'ufficio studi di BNL che è stata emanata ad aprile, quattro numeri in croce. A livello globale i prezzi delle abitazioni sono ritornati al picco che era il picco del 2000. Vuol dire che non c'è più uno scostamento di prezzo tra i prezzi degli immobili di oggi e quelli del 2000. Stesso prezzo. C'è stata una curva di diminuzione. Stesso prezzo. Noi ci ritroviamo oggi ad avere ancora i prezzi del 1986. Avevano avuto i prezzi che erano cresciuti, poi sono decresciuti, ancora nel 2016 sono decresciuti e il valore degli immobili è uguale a quello del 1986. Trent'anni di vita del paese buttati, trent'anni di valori immobiliari inesistenti. La buona notizia è che c'è stata una crescita nel 2016, in particolare nell'ultimo trimestre del 2016, di crescita di valore trimestre su trimestre, primo dato di inversione dello 0,1. Vuol dire che dopo essere decresciuti la velocità di ingresso nel 2017 in termini di prezzo è stata 0. Buona notizia, perché non si vedrà, ma i dati erano stati tutti negativi e fortemente negativi in tutti i trimestri precedenti degli ultimi anni precedenti. Quindi se non altro una piccola positiva notizia. Ultimo dato che vi leggo. La compravendita delle abitazioni italiane in effetti sta cominciando a crescere. Cominciare a crescere significa che abbiamo raggiunto lo stesso numero di compravendite che svolgevamo nel 1996. Circa mezzo milione all'anno. Quindi oggi l'Italia ha i prezzi dell'80 e il numero delle compravendite del 90. Il picco è stato nel 2006 con circa il 60% in più di compravendite. Siamo veramente lontani da quello che è stato il momento un po' diciamo di picco. Perché vi ho raccontato questo? Perché la FIAIP rappresenta, correggimi se sbaglio, più di 15.000 agenzie immobiliari associate. Credo un indotto tra dipendenti di oltre 40-45.000 persone che vivono le agenzie immobiliari e la FIAIP. E il mercato che avete vissuto è un mercato di guerra. E in guerra ci sono gli eroi. E poter essere oggi qui a raccontare una storia è perché avete eroicamente lavorato per salvare le vostre aziende, la vostra attività professionale. Quindi molto bravi davvero. Lo dico perché noi banche non è che ci siamo trovati negli ultimi dieci anni in una situazione molto differente. Perché anche noi ci siamo trovati in un mercato estremamente complicato. Anche noi ci siamo trovati con una competizione che deriva sempre di più dalle attività non bancarie. Anche noi ci siamo trovati con la congiuntura perfetta, la tempesta perfetta, i tassi che scendevano fortemente, i spread che crollavano. Abbiamo assistito alle fasi in cui non avevamo funding, non avevamo, come dire, denaro per poter finanziare. Non bien peperibà, però il sistema bancario sicuramente sì. Ci siamo trovati nella condizione in cui il costo del rischio saltava in maniera vertiginosa e annullava tutti i profitti e quindi abbiamo dovuto cominciare a tagliare i costi, tagliare il numero di agenzie, rendere più efficiente il nostro modello. Quindi anche noi ci sentiamo molto vicini alla difficoltà del mercato, come tutta l'industria italiana. Non siamo stati le banche, gli agenti immobiliari in difficoltà a tutto il settore. Però la cosa che, ed entro un po' nella parte finale, la cosa che però volevo dirvi è che io credo molto a quello che ha detto Paolo perché l'ho visto in questi ultimi otto anni, è veramente stato una, come dire, un percorso in cui essere professionisti di professione non è stato solo dichiarato, è stato reso tangibile. La tua parte conclusiva, preconclusiva, diciamo di poco fa quando dicevi noi vogliamo diventare professionisti che fanno i professionisti, vogliamo essere riconosciuti come tali e anche magari con una proprietà intellettuale della nostra attività stessa. In effetti è vero, perché io condivido anche quanto diceva Paolo in merito al fatto che la digitalizzazione non spaventa i professionisti. La digitalizzazione spaventa gli impreparati, spaventa i non bravi, spaventa i non specialisti. La digitalizzazione è a supporto dei professionisti. E chiudo dicendo che in questi anni noi abbiamo fatto crescere la nostra attività di partnership con FIAIP in tutti i settori. È ovvio che l'intuizione che sia Paolo che Samuele e Lupidi hanno avuto nella crescita di Auxilia ha molto supportato la partnership, perché onestamente uno può dire rappresenti una banca, la banca non lavora direttamente con gli agenti immobiliari, lavora di più con i mediatori creditizi, poi si possono fare tante cose fatte insieme, ma la decisione di non aprire una filiera concorrente agli agenti immobiliari, cosa che hanno fatto altre banche in Italia, noi l'abbiamo presa perché c'eravate voi. Quindi, la partnership non nasceva con questo fine, perché le cose cambiano rapidamente. La partnership ci ha rinforzato in questi anni rispetto a decisioni che poi sono diventate le nostre decisioni strategiche. Abbiamo deciso di non fare delle cose perché conoscevamo voi, sapevamo quanto più bravi diventevate nel fare il vostro mestiere e non aveva senso diventare in competizione con dei partner che stavano sviluppando sistemi con cui potevamo lavorare altrettanto bene. Oggi, per vendere le nostre, diciamo, le case in escursione e quindi che sono i nastri immobiliari, noi non creiamo un veicolo per farlo noi, noi chiediamo a voi di farlo per noi. Quando dobbiamo entrare in un mercato, abbiamo bisogno di dare ai nostri clienti della consulenza per cercare di capire quali sono i beni migliori che possono acquistare, noi abbiamo per la parte grandissima una società che si chiama Bien-Peper-I-Bari e l'estate che fa le cose veramente da ultimi palazzi interi, building interi, stabilimenti, ma per tutto quella che è la parte più dell'impresa, della piccola imprenditoria o delle famiglie, e noi chiediamo a voi. Quindi chiudo dicendo, sta finendo ovviamente il secondo mandato di Paolo, noi siamo ancora più convinti oggi della nostra vicinanza e della nostra partnership alla FIAIP e a tutto il mondo che è vicino alla FIAIP e di quanto lo eravamo otto anni fa. Questo ovviamente è merito del lavoro che hai fatto insieme a tutti i colleghi della Giunta, a tutti i colleghi del gruppo dirigente di FIAIP. Quindi io personalmente ti saluto professionalmente per quanto riguarda questo mandato, ma sono veramente molto molto contento di aver avuto la possibilità di approfondire in questi anni una relazione prima professionale, poi personale, da cui ho appreso molto. La cosa che invidio, non che non ne abbia tanta anche io, però la cosa che invidio perché è una cosa che contagia e fa cambiare le cose, vorrei che quante più persone potessero avere in Paolo è l'energia, l'energia del fare, il fatto che quando si impegna per fare una cosa la fa con una convinzione, con una capacità di trascinare. Quindi io ti dico che per molte delle cose che hai detto, poi ci siamo un po' fatti trascinare perché la nostra visione del mercato immobiliare è veramente molto vicina a quella della FIAIP. Sono sicuro che quello che lasci sarà anche un gruppo dirigente con cui continueremo a lavorare bene. In questo momento ti ringrazio e ti saluto, salutiamo questa fine del tuo mandato. Siamo sicuri che invece con tutti voi potremo continuare a lavorare insieme come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Grazie.